Puoi fare il mercante? Puoi fare il mercante? Sì, sì, sì Nooo Facciamo una missione anche da mercante E beh, certo che facciamo anche i mercanti Benvenuti nell'ultima beta di Sea of Thieves Dove ci hanno aggiunto tantissimi contenuti da provare Fere, sei gasata? Tantissimo, Steph Comunque ho notato una cosa Eh, subito, dimmi, dimmi Sì, ti manco un occhio Fere Non voglio far vedere il mio personaggio Non mi è capitato come la scorsa volta E sono abbastanza brutto No, è l'occhio verde, l'occhio totalmente bianco Quindi probabilmente hai perso un occhio Guardatemi Giusto per dirtelo Guardate Sono brutto Non sono bello come la scorsa volta Purtroppo ci ho provato per due ore Ma non sono riuscito a crearlo bello come la scorsa volta Eh, vabbè, dai, fregatene Tanto dovrei ripare di nuovo Fere, posso parlare delle cose importanti Di quelle che realmente contano? Hanno aggiunto tantissime cose Questa qua è l'ultima beta Prima che il gioco esca ufficialmente Esce ufficialmente, teoricamente, il 20 di marzo Quindi mancano dieci giorni Oggi che stiamo registrando la tua beta E soldando per sabato e domenica E hanno aggiunto la tizia per modificare la barca Quindi possiamo andare a decidere l'estetica della barca Anche se costa tantissimi soldi Tantissimo Poi hanno aggiunto delle reputazioni piratesche Che non so bene a che cosa servono Ma sembrano davvero, davvero interessanti Non vorrei interromperla, capitano Ma deve andare un po' più a sinistra Perché stiamo sbagliando a posto Ok? Giusto per dirglielo, eh Ciao, ciao, ciao Poi hanno aggiunto tantissime nuove missioni Hanno aggiunto nuove armi Hanno aggiunto nuvi equipaggiamenti Non so, hanno aggiunto davvero un botto Beh, perché ormai ci siamo, Steph Diciamo che questo è un assaggio Di quello che poi sarà il gioco finale Anche se ancora non c'è tutto Io so che poi certe cose Le lasciano solo per il lancio del gioco Ma guarda, io sinceramente Ogni volta che entro Guardo il mare Fere Che c'è? Le nuvole Verso Ok Verso a sinistra Oh no Ma Cioè ci vedo male Aspetta che prendo il binoccolo, Steph Un attimino Perché qui voglio capirci bene Dove è finito il mio binoccolo? Eccolo Fere È un teschio È un teschio Oh No, Steph Giù, vanno col binoccolo L'ho già visto Hai visto che con gli occhi ha fatto un effetto strano? Fai fulmini con gli occhi Ma che cavolo c'è lì in fondo? Ma scendiamo dopo No, no Prima andiamo a far vedere tutte le nuove No, no, no No, no, no Dai, Steph Non possiamo fare i pirati fifoni qua Scusami Fere, ho capito Ma non puoi neanche andare in una nuvola teschio Cioè non è un bel posto Sì, è che possiamo andarci Sì, sicuramente c'è qualcosa di molto interessante Comunque Se vi state chiedendo perché siamo già in mare Dato che questa cosa la volevo dire È perché eravamo in un'isola dove pioveva all'infinito Quindi ci siamo voluti spostare Perché partire con la pioggia La nostra nuova avventura Non mi sembrava proprio l'ideale Cioè è troppo freddo Siamo spostati Stiamo emigrando verso un altro posto Prenderemo delle missioni Vi facciamo vedere tutti i mercanti nuovi E iniziamo Ed eccoci qui Arrivati Cara bella isoletta Finalmente è un posto carino Oh, qua è molto meglio Si sta bene perlomeno Esatto Allora, 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 allora Lei c'è sempre stato Mi faccia vedere un pochettino Sì, è quello degli strumenti Anche se come potete vedere Mi hanno aggiunto parecchio Fammi vedere Perché ci sono diverse cose Che non avevo minimamente mai visto Uh, ma guarda le bussole Che belle, Steph Quello è tutto giù, Faire Non sono bussole Sono orologi Ce l'abbiamo adesso L'orologio da taschino Ma l'abbiamo sempre avuto? Lo sai che è venuto il dubbio anche a me Non mi ricordo È questo? Se ce l'abbiamo o meno Sì, mettilo L'ho controllato prima No, non l'abbiamo sempre avuto Non c'era, vero? È l'orologio da taschino Ah, quindi possiamo sapere Che ora è Quando fa notte E non vorrei dire Ma potrebbe servire Per cercare qualche cosa interessante Magari c'è qualche indizio Qualche tesoro Da trovare proprio con l'orologio Esatto A che orario lo devi prendere Molto interessante da vedere Molto interessante Pensate tipo un indovinello Dove dice Hai il chiaro di luna Alle due del mattino Dovetti andare sotto questa pietra E noi lì con l'orologio Da aspettare Bellissimo E lo soffere Ma davanti a te Stavo facendo facce strane Ma non mi vedevi Purtroppo Sì, sì, purtroppo ti vedevo Poi Come possiamo vedere Dal nostro amico preferito Che lui è in assoluto Il più importante Lo sapete benissimo Abbiamo fin da subito Tre missioni Da zero soldi In modo tale da poter fare Costantemente cose diverse Come sempre Poi quando si arriva al 5 Si sbloccano altre cose Esatto E quindi diciamo Che qua hanno diversificato un po' E io ti dico Prendiamo la terza Da zero Sono tutte diverse Non le abbiamo mai fatte Esatto Esatto Potremmo trovare Delle varietà Molto divertenti Poi I vestiti Dove sei? I vestiti Ma quanti ne hanno messo? Io guardavo le armi Visto che sono qua C'è una benda da pirata Per l'occhio Tu che non hai un occhio Ti servirebbe Con un teschio sopra Bellissima Steph Bellissima Ma Fede È pieno Ma proprio pieno 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 I cappelli No vabbè Vabbè Allora i vestiti io non li guardo Consolini Perché tanto No non la finiresti più Siamo pirati dal ronde Questa qua Pirati devono essere Questa qui Anzi È una femmina Sì È una donna È una donna Lei è nuova Non l'abbiamo mai vista Se ho capito bene Lei teoricamente Dovrebbe vendere Il cavolo è Ok Ok Scusami Aspetta Puoi fare il mercante Puoi fare il mercante Sì Sì No Facciamo una missione anche da mercante E beh certo che facciamo anche i mercanti L'hai presa? Sì ma che spettacolo Quindi praticamente Queste qua sono delle rotte mercantili Per poter essere un po' più pacifisti Un po' più tranquilli No beh c'erano comunque anche i pirati Che durante le loro missioni Portavano anche merci Non me lo aspettavo Venivano pagati per questo Nonostante poi Andassero a rapinare altri posti Però Finalmente abbiamo anche lei Guardate Pensate avere la nostra nave Con questo Fate un figurone A me piace il primo Fate un figurone Questo? Ci sta? Ci sta? È molto bello Molto scendio Comunque Fretico Solo che ci sono certe cose Che si sbloccano a livello 50 Quindi diciamo che In un giorno lo vedo difficile Arrivarti Occhio 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 Ho già trovato una cosa importante Cosa? Una è sbloccata a priori Ok Ok Le altre dice Livello 50 di The Order of Souls Quindi l'ordine delle anime Ok 50 di Gold Orders Che è quello del Prendere i tesori Quello che noi abbiamo fatto di solito Oppure 50 dell'alleanza dei mercanti Quindi ci sono tre strade Che noi possiamo scegliere E mi viene da dirti Che quella delle anime Avrà a che fare con quel teschio Che abbiamo visto Avrà a che fare con la nave Fantasma quando muori E avrà a che fare con le messaggi in bottiglia Che abbiamo trovato molto particolari Nella scorsa beta Esattamente Quindi avremo anche la possibilità Di scegliere la nostra strada Sondaggio Perché è importantissimo Fateci sapere Quale ci vorreste vedere per correre Perché sono molto curioso A me ispirano molto Tutti e tre Quindi Anche a me è molto È una di quelle scelte stra difficili Perché suppongo che saranno diverse Adesso la proviamo La missione dei mercanti Adesso proviamo quella del mercante Così vediamo subito Di che si tratta Guardate il teschio lì vicino Ci sta attirando Magari ci portano proprio lì E per curiosità Scopriamo anche cosa succede Ah io ci andrò Stef Cono senza di te Io ci andrò Già si voleva separare la signorina Mi sono persa Stef Eh vai vai Senza di me A nuoto ci vai Ma io non è che devo ritrovare la nave Io devo andare a combattere I combattenti Non sono navigatori Tu te lo dimentichi Non mi sono persa davvero Stef Ma per davvero eh Non so più dove devo andare Io sto andando a prendere la nave Sto ripartendo Davvero Aspetta prima o poi la troverò Aspetta Vado in posto alto Cerca tanto io sto ripartendo Stef viene a prendermi Vieni a prendermi qui alla rima Sì sì Sono qui da sola Sì sì sto arrivando eh Tranquilla Il vento Stef Guarda che vado davvero via da solo Dai Stef non la trovo Sono seria Pazienza Sto partendo Barca andiamo Da che parte è Finalmente una ciurma Grazie di Dio Sinistra o destra Stef da sola Dai sinistra o destra Rispetto al molo Soprattutto Torno indietro Ciao Fede È stata una bellissima avventura Appena ti vedo ti sparo La final beta è durata Un solo metà video è durata Vieni qua Stef Mi vedi? Ti aspetta al molo Aspetta Ma che fai? Guarda che ti sparo col cannone No ti sparo in faccia io Stai fermo Cosa abbiamo noi questa volta? Esatto Ecco la nostra missione È diversa È molto diversa È una specie di lista Vedi? Allora dobbiamo portare A Blunder Outpost Dalle 11 Aspetta Sì Vedi a che serve l'orario Dalle 11 alle 10 Giusto? Ahà Dalle 11 alle 10 di notte Questa piuma di gallina Giusto? Sì E Red Speckled Non so bene cosa sia Comunque dobbiamo far pure Una gallina Mi sembra Ok ma il concetto è Dove troviamo la mercanzia? Non lo so Non lo so Steph Però aspetta Sottodice Vedi? Che le cose possono essere prese Da qualsiasi mercante Allora secondo me devo tornare Dal mercante che c'ha dato la missione E chiederle di darmi la merce Che devo portare Al Blunder Outpost Tu inizi ad andare alla mappa E vedere se vedi Il Blunder Outpost Ok ok ci sono Quindi in questo modo Invece che stare lì Tutto il tempo A cercare tesori Si fa proprio scambio di merce Molto interessante Allora Infatti Collect Chicken Cop Ma Ma ti ha dato la gabbia La gallina dov'è Steph? Credo che sia dentro la gabbia Fere Aspetta che la voglio vedere Torna subito da me Arrivo Arrivo Voglio ridere tantissimo Ma povera gallina Trasparto di galline facciamo Cioè io mi aspettavo Tipo dei gioielli Qualcosa di molto importante Non una gallina Steph Però vabbè Saranno le prime missioni Per vedere se siamo Dei buoni mercanti Infatti non è che qua Puoi partire subito da grandi cose Aspetta che la mettiamo qui Secondo me è vuota Steph Non si è accorto che Ti dicevo che la gallina Doveva essere da qualche parte La dobbiamo catturare Steph Secondo me Non ci crederei mai Ma noi dobbiamo andare Con quella gabbia A cercare nelle varie isole Le galline e catturarle Io te l'avevo detto Che dovevamo andare A caccia di galline qua Ok Ok molto strana Come missione Ti ripeto Però ci sta Almeno un po' diverso Da solito Allora Un pochettino C'è una tattica Che mi è venuta in mente Ok Noi adesso abbiamo Questa missione Se noi ne abbiamo Una del tesoro Mentre cerchiamo I tesori Quindi fare la doppia missione Sì 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 Mentre noi ci prendiamo Le galline Capisci Ah e poi riattiviamo L'altra Ok Ok sì ho capito Vai 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 Ok arrivo a votare Perché la barca Nel mentre è partita Allora abbiamo Questa qua del tesoro La voto Vota anche tu Ok vista Ok Perfetto Vediamo immediatamente Doppia isola del tesoro Così subito Bello 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 Allora farei tu a cercare l'isola Dato che devo guidare Sì 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 Adesso appena mi appaiono Ti dico Tanto di sicuro sono vicine Una è questa E l'altra è questa Fere Fai due respiri Fai due respiri Aspetta 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 Io ero sotto A prendere la gabbia Ho detto Quindi se ci sono le Mi attaccano Non andare in acqua Però che affughi Torna indietro Sei bellissimo Ma è nero Io odoro i maialini Ce n'era anche uno marrone Ciao Stai fermo Che ti voglio vedere in faccia E no perché Non si vuole far catturare È normale Allora tieni la gabbia Vuol dire che siamo In un'isola con animali Fere Però aspetta Magari è un'isola di maialini E non di galline Spero di no Però ci ho pensato anche io Ovviamente Siamo a Devil's Ridge Quindi questa Dove cavolo sono atterrato Non ne ho idea Ok Quindi dovrò cercare La punta Fere tu vai in giro A cercare gli animali Io vado a cercare questo Se ti attacca qualcosa Fai X Ti butti giù la gabbia Ne ho trovato uno rosa Con le macchie nere Ma che carini che sono Perché mi hanno aggiunto Gli animali Cioè già Non mi ascoltava In questo gioco Se mi mettono gli animali Lo sappiamo tutti Che alla fine Comunque secondo me È un'isola solo di maialini Steph Ok Ne ho visto uno rosa Normalissimo Ciao maialini Sì 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 Lo vedi Che carino E poi c'è questo Quello sembra un criceto Però ho trovato Una gabbia di galline in giro Ah quindi le trovi anche Nellì Sì Ma se catturassimo Un maialino così a caso Sì Ce lo portiamo in giro Come si cattura? Credo che devi fare F Quando gli sei vicinissimo Ma io gli sono vicinissimo E allora forse Con la gabbia da gallina Puoi prendere solo le galline Ma perché trovare Non è una gabbia Infatti da maialini Ma perché ce l'hanno fatta trovare Se ci sono solo maiali Non ha senso Non ha senso Vabbè saranno in un'altra isola Hai trovato il tesoro? Che so Ah non l'hai ancora trovato No E allora qui ci voglio io Appoggiamo la gabbia E vediamo dove sta Il tesoro Non mi servi Allora Pensa a vedere se ci sono altre galline No ho capito Ho capito Ho capito Cosa hai capito? Dove è il tesoro? Cosa? Dove è il tesoro? In che giornata della tua vita? È qui È lì? Preso? Sì aspetta Perché devo trovare Il posto giusto È qui Sì 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 Aspetta Sto aspettando Sto aspettando Tranquilla tranquilla Sei sicuramente Vicinissima al tesoro No no era qui Hai sbagliato tu comunque Va bene Allora Poi non posso neanche catturare Un maialino Comunque Allora ne voglio uno Di tutti i colori Cacciatori dei tesori Rimaniamo formidabili Eh c'è da dirlo Cioè adesso Scheletro Non è giornata Ok Abbiamo trovato i maialini Al posto delle galline Non è una bella giornata Non ci disturbate Va bene Ok grazie Così faticoso Immagino tanto Feria porca miseria Sei troppo Scusa Steph Parta Aspetta Perché deve fare la simpatica Non era la simpatica Non pensavo che fossi proprio Nel vento C'entrata E quindi iniziassi a partire Senza manco toccare la nave Steph Scusa eh Con le vele aperte E non rompe E poi io avevo girato Già la nave In modo tale Da andare dritti All'altra isola Cioè Consolini Apriamo la votazione Per mandarla via Cioè Non è accettabile Non si può E cadi dalla barca E cadi Maledizione Porca miseria Muoviti dai Mettiamo questo qua Come siamo messi Devo fare un Trixie Sixty Dobbiamo andare a Dance and Spire Eh Mi sa di sì Non mi ricordo L'ho segnata nella mappa Steph L'altra segnata Col cerchietto Che non è questa E quella dove dobbiamo andare Ok Avevi fatto un casino Quella è Quella più su Feria ci stiamo andando a schiantare Perché tocchi le cose Beh adesso Ci schiantiamo Che salvataggio Bravo Steph Sei proprio un bravo navigatore E poi perché Mi lasci mai navigare Che non imparo È solo per quello Sì beh Aprire l'ancora A caso Tutto il tempo Sicuramente così impari Eh Porca miseria Come siamo messi Di direzione Ah siamo anche giusti Siamo giusti Dobbiamo andare tutto dritto Ho fatto una sgommata Sia per salvare la nave Sia per metterci Superare quella che abbiamo di fronte E poi c'è l'altra Perfetto Comunque Ci fermiamo Così In mezzo proprio al viaggio Andiamo lì Scopriamo se si trovano Là le galline E cerchiamo di completare Entrambe le missioni Quindi I due tesori consegnati E le due galline consegnate E poi speriamo di trovare La missione Di prendere i maiali Così torniamo nell'isola Ad acchiapparli